Comprendo la frustrazione di Gusmeroli e penso che la situazione difficile per il turismo, come per altri settori, talvolta possa spingere a valutazioni eccessive. Inizia così la risposta dell'assessore al turismo di Tirano Sonia Bombardieri alla lettera aperta con cui l'albergatore lamentava l'assenza di strategie turistiche in città dopo l'emergenza Covid. La situazione sanitaria, scrive l'esponente dell'amministrazione comunale, non consente di pianificare soluzioni a breve periodo, dipendiamo dal virus che cambia scenario ogni settimana. Ben vengano proposte, se ci sono, ma come tutti sappiamo per ora l'espatrio per turismo non è consentito. Il riferimento è all'idea di Gusmeroli di offrire pacchetti in sicurezza e con tampone rapido legati al trenino rosso. Intanto, conclude Bombardieri, stiamo lavorando insieme alla programmazione autore estiva e alla promozione anche di ciò che Tirano è e da offre oltre al treno. Ma è la campagna vaccinale che ci permetterà veramente di ripartire no comment per ora dagli altri soggetti chiamati in causa da Gusmeroli, consorzio turistico e associazione di categoria.